Ciao ragazzi, risolviamo l'equazione trigonometrica 2 seno di 2x meno radice di 3 uguale a 0. Isoliamo la funzione seno ritrovando seno di 2x uguale radice di 3 mezzi. A questo punto, ricordando che l'arco seno di radice di 3 mezzi è uguale a pi greco terzi, abbiamo che 2x deve essere uguale a meno 1 alla k pi greco terzi più k pi greco, dove k è un numero intero. Dividendo per 2 otteniamo la soluzione dell'equazione, cioè x uguale a meno 1 alla k per pi greco sesti più k pi greco mezzi. Ciao!